Ciao ragazzi, qui vi parla uno degli esponenti di Sam Street, purtroppo non possiamo essere presenti tutti perché è in atto una battaglia di freestyle qui al Botechero. E' la prima volta che Sam Street si sposta verso, diciamo, sicuramente un centro amico, che è il Botechero, un ristorante qui a Fisciano, e siamo qui per promuovere tre eventi amici a Sam Street, che sono il Barrier Contest, l'Overline e Sam Street The Waltz. Degli eventi volte a promuovere, diciamo, l'hip hop e l'arte di strada in tutte le comunità, ma soprattutto anche a chi non è ancora vicino a queste attività. Il saluto a tutti voi.